buongiorno appassionati del crimine bentornati sul canale se non ci siamo mai visti io sono andrea e oggi vi racconterò di un caso che non so in realtà quanto sia conosciuto credo poco io non lo conoscevo per esempio ma forse potrebbe anche essere solo una mia mancanza comunque come sempre vi do una definizione prima di iniziare i casi e io questo lo definirei delirante se vi interessano quindi le vicende strane e agghiaccianti proprio come questa vi invito a scrivervi al canale vi vedo se non lo fate e iniziamo subito con la storia di oggi daniel paul rakowitz nasce il 24 di dicembre del 1960 e questa è già di per sé una gran bella coincidenza e sono sicura che capirete il perché molto presto daniel ha due fratelli maggiori e tutti quanti sono nati a fort leonard in missouri da mamma valmer e papà anthony ma proprio a causa del lavoro del papà anthony appunto sono costretti spesso a viaggiare a cambiare casa questo perché lui faceva l'investigatore risolveva crimini per la polizia e l'unico posto che potranno chiamare casa sarà rockport in texas quando però daniel appena tre anni capita la prima grande disgrazia nella sua vita infatti c'erano lui e sua mamma valmer insieme in un hotel a parigi ma sua madre ad un certo punto si accascia davanti ai suoi occhi e muore per un infarto già solo questo avvenimento avrebbe traumatizzato chiunque specialmente un bambino così piccolo ma tre mesi dopo la morte della mamma succede un altro avvenimento importante nella vita di daniel infatti suo padre dopo appena tre mesi dalla morte della mamma si risposa ma non con una persona qualsiasi con la sorella minore di sua mamma quindi diciamo che già per i primi tre anni ed età di questo bambino la sua vita non è affatto facile sballottato da una casa all'altra da uno stato all'altro sua mamma muore davanti ai suoi occhi improvvisamente e improvvisamente uguale la sua zia diventa la sua matrigna quindi già diciamo un bel caos ma quando daniel ha cinque anni inizia a dire di vedere delle cose di avere delle visioni e di vedere in queste visioni tre uomini saggi che galleggiavano davanti ai suoi occhi uno vestito di blu uno di giallo e uno di viola ma questi uomini non lo spaventavano affatto anzi lui aspirava a diventare come loro e anzi meglio perché lui sempre appena l'età di cinque anni iniziava già a dispensare miracoli a destra e a manca i suoi compagnetti di scuola e diceva a tutti di essere gesù ma lui non a caso diceva di essere gesù aveva una motivazione valida secondo lui ma sinceramente io non l'ho capita e però credo che ci sia comunque una spiegazione appunto se qualcuno di voi la sa e la comprende vi prego fatemi sapere perché è una cosa proprio che io non riesco a capire lui sosteneva che fosse nato il 24 12 del 60 che tutti i numeri sommati insieme fa 96 probabilmente un numero importante nel suo nome c'erano 18 lettere sommando nome secondo nome e cognome inoltre lui era nato alle 21 e 02 e la ventunesima ora rappresentava la venuta di gesù insomma seppur io non comprenda quello che lui intende dire sta di fatto che lui per tutti questi motivi credeva appunto di essere gesù per questi suoi comportamenti bizzarri i suoi compagni l'hanno etichettato fin dall'inizio come quello strano ed era soggetto a continuo bullismo il padre che riconosceva se non altro che appunto suo figlio avesse qualcosa appunto di strano l'aveva mandato a fare delle sedute da uno psicologo il quale però invece che ascoltarlo magari o non so gli aveva prescritto un farmaco da prendere costantemente per due anni di fila dagli 9 agli 11 anni il ritalin ecco il ritalin è un farmaco che di solito si dà per i disturbi dell'attenzione si dà a chi soffre di adhd oppure si dà per ridurre dei comportamenti compulsivi insomma non è un farmaco da dare alla leggera purtroppo nei farmaci né le sedute dallo psicologo però riescono ad aiutare questo bambino che di giorno in giorno peggiora sempre di più nel 1970 poi tutta la famiglia si trasferisce appunto a rockport come vi accennavo il posto in cui vivranno un pochino di più rispetto agli altri e suo padre cambia anche mestiere da investigatore diventa vice sceriffo appunto lì in texas ma questo non cambia affatto il comportamento di daniel che diventa sempre più anche aggressivo nei confronti di suo padre daniel continuava a diventare sempre più aggressivo riteneva probabilmente suo padre responsabile degli avvenimenti brutti accaduti nella sua vita in effetti anthony non era proprio per niente un santo anzi era un uomo molto intransigente nei confronti dei figli e anche molto severo e quando daniel aveva iniziato a fare uso di droghe e alcol il suo stesso padre l'aveva arrestato e da lì la loro situazione era peggiorata sempre di più erano talmente i ferricorti che avevano iniziato a minacciarsi di morte a vicenda daniel nel frattempo aveva iniziato gli studi e li aveva anche portati a termine nel 1980 aveva studiato in un liceo a refugio sempre in texas e nel frattempo suo padre lo aveva anche cacciato di casa perché proprio non ne poteva più del figlio costringendolo a vivere qua e là finché nel 1983 daniel aveva commesso probabilmente la pazzia più grande rispetto a tutte quelle che aveva fatto in precedenza aveva infatti sposato una ragazzina di 14 anni per fortuna relativamente il loro matrimonio però non era durato tantissimo infatti nel 1985 daniel lascia sia il texas che sua moglie per trasferirsi a new york e il primo posto in cui va appunto una volta trasferitosi e tomkins square park le sue visioni comunque hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella sua vita quindi quello che ha compiuto finora cioè sposarsi andare via eccetera era tutto compiuto secondo quello che gli avevano detto le sue visioni ora new york nel 1980 negli anni 80 in generale era organizzata un pochino diversamente rispetto a come ora ma nata ora è la zona un po più ricca un po più prestigiosa mentre invece all'epoca non era proprio così per i new yorkesi anzi quel posto specialmente tomkins square park appunto era un posto socialmente disagiato diciamo così era il punto dove si incontravano e dove si accampavano tutti senza tetto e intendo proprio tutti infatti era la zona con un tasso di criminalità elevatissimo c'erano traffici di ogni genere insomma era un posto da da cui la gente si teneva alla larga daniel letteralmente aveva piantato la tenda in quel parco e lì era rimasto aveva anche iniziato ad avere una cerchia di adepti o comunque persone che ascoltavano i suoi vaneggiamenti ed era arrivato al punto di essere sicuro al 100 per cento adesso di essere gesù le persone che lo seguivano che purtroppo per lui erano una minima parte gli credevano credevano alle sue follie ma c'era anche una grandissima fetta di persone che in realtà pensava che fosse solo uno strambo un pazzo un tipo molto strano daniel in quel posto andava sempre in giro con il suo gallo domestico che si chiamava gallo e aveva anche fondato la sua religione personale chiamata la chiesa del 966 parlava di reincarnazione di satana e soprattutto sognava non solo di essere il leader di tutta quella gente lui pensava in grande infatti aveva detto che sarebbe diventato il nuovo presidente degli stati uniti d'america nel 1996 insomma per dirla in breve era completamente delirante e aveva il complesso della divinità è chiaro però che vendere bagianate non gli bastava per sopravvivere perché comunque doveva pur fare qualcosa per riuscire a comprarsi da mangiare e in effetti lui vendeva sostanze ma oltre a vendere sostanze era anche un ottimo cuoco quindi cucinava spesso per tutti coloro che abitavano appunto a tomkins square park almeno tutti quelli che glielo richiedevano e questo è davvero una parte fondamentale di questa storia i primi giorni di luglio del 1989 c'era stata una cesissima rivolta proprio a tomkins square park tra poliziotti che a quel punto volevano far sgomberare il parco e appunto coloro che vi abitavano ma questa rivolta che doveva essere all'inizio una manifestazione pacifica si è trasformata presto appunto in un massacro questo perché i poliziotti avevano iniziato ad assalire la gente che abitava lì tutti senza tetto devono sgomberare adesso devono trovarsi un altro posto dove stare non gli è più permesso stare nel parco quindi daniel il 7 di luglio del 1989 si trova un appartamento insieme a silvia e sean due ragazzi che appunto lui aveva conosciuto al parco lei aveva 27 anni mentre invece di anni il 28 insomma erano tutti molto vicini di età lei faceva l'assistente infermieristica mentre invece sean faceva l'elettricista per loro era molto difficile pagare un affitto da 500 dollari al mese quindi l'arrivo di daniel era stato un po una manna per loro due dall'altro canto daniel riusciva a pagare la metà dell'affitto vendendo appunto sempre sostanze insomma facendo continuando a fare il lavoro che faceva prima e in cambio riusciva praticamente a farsi la doccia ogni volta che voleva avere un letto in cui dormire e guardare la tv tutto il giorno una cosa che però daniel faceva spesso era appostarsi davanti al negozio di alimentari che c'era di fronte al suo appartamento e aspettare che qualcuno dovesse entrare a chi entrava appunto chiedeva se poteva comprargli del burro delle patate delle cipolle del pollo e con questi ingredienti faceva da mangiare per coloro che ancora erano senza tetto ed erano ancora al tomkins square park ovviamente non tutti avevano potuto sgomberare imminentemente quindi a qualcuno poteva ancora servire una mano ed era davvero un bel gesto perché in fondo lui sapeva che cosa significava essere senza cibo e senza una casa e preparava spesso anche i pancake per queste persone questo gli faceva davvero tanto onore insomma era un gesto davvero bello da parte sua ma degli aveva d'altra parte anche una fissa forse un po troppo fissa quella per le donne infatti lui poteva star facendo qualsiasi cosa ma se vedeva una donna da sola al ristorante al bar al supermercato doveva mollare tutto per andare a parlare con lei per provarci ovviamente e questo l'avevano notato in molti specialmente i suoi coinquilini purtroppo però per daniel pochissimo tempo dopo il suo trasferimento esattamente il 20 di luglio quindi davvero due settimane dopo il suo trasferimento silvia e sean decidono di separarsi quindi prima sean e poi silvia lasciano l'appartamento lasciando però anche daniel in seria difficoltà perché ovviamente lui non poteva permettersi un affitto così alto quindi doveva assolutamente trovarsi un nuovo coinquilino o per lui sarebbe davvero finita male circa due settimane dopo quindi proprio all'inizio di agosto daniel aveva conosciuto una ragazza di nome monica birley o birle comunque una ragazza che veniva dalla svizzera e che si era trasferita in america per seguire il suo sogno di fare la ballerina e per mantenersi lavorava e ballava in un locale daniel le chiede di andare ad abitare con lui e monica accetta molto volentieri anche a lei serviva una mano per pagare l'affitto ed è proprio lei che si intesta il contratto di locazione questo perché probabilmente all'epoca c'erano ancora molti pregiudizi per coloro che avevano il barbone i capelli lunghi insomma che erano dei senza tetto precedentemente e quindi lei si intesta questo contratto e i due iniziano ad abitare insieme daniel prima di far trasferire monica il giorno prima sistema tutto l'appartamento lo ripolisce completamente insomma per poterglielo rendere più accogliente possibile e i due intraprendono subito praticamente una relazione romantica alcune fonti che ho visionato sostenevano che lui stesse usando lei o che lei altre stesse usando lui ma questo non è niente di certo quindi quello che è sicuro e che due appunto avessero una relazione amorosa questa relazione però purtroppo per monica termina molto in fretta dopo appena qualche giorno anche se in realtà bisogna dire che fosse stata lei a voler terminarlo questo rapporto e dopo di che lei aveva iniziato subito a portare molti uomini in casa e questo faceva letteralmente impazzire daniel che più volte era andato a trovare silvia nel suo nuovo appartamento confidandole tutto ciò che avrebbe voluto fare a monica per fargliela pagare ma la situazione peggiora ancora di più quando monica è irremovibile sul fatto che vuole buttarlo fuori di casa e così fa perché può farlo perché l'affitto è intestato a lei il giorno in cui monica sbatte fuori casa daniel lui va tutto il giorno a casa di silvia e lì per tutta la giornata continua a ripetere a questa ragazza di quanto avrebbe voluto uccidere monica e anche i modi in cui avrebbe voluto farlo tutte frasi però alternate con no non posso farlo perché l'amo troppo silvia non aveva mai creduto a una sola parola di quello che stava dicendo daniel questo perché lei non l'aveva mai visto come un ragazzo violento affermazione che cozza un po' però con il fatto che daniel quando i due ancora abitavano al parco aveva ucciso spesso cani e gatti animali domestici in generale l'unico animale che si era tenuto dal sempre era il suo gallo poi comunque ricordiamoci sempre che daniel era uno che straparlava e dicevano un sacco di fesserie quindi era molto difficile credere che avrebbe voluto davvero uccidere monica il 17 di agosto dell 89 però daniel aveva detto una frase molto specifica all'amica silvia mentre la stava accompagnando al treno e l'aveva detto che il giorno seguente avrebbe ucciso monica ma che le serviva il suo aiuto gli serviva il suo aiuto per sbarazzarsi del corpo ma ovviamente silvia gli aveva detto no scordatelo non esiste proprio probabilmente poi silvia non aveva chiamato la polizia perché in realtà ancora non riusciva a credere che lui avrebbe davvero commesso un atto simile silvia però forse presa un po' dalla paura decide di non andare a trovare il giorno dopo il suo amico forse pensava ad un certo punto che lui in fondo in fondo avrebbe anche potuto commetterla una sciocchezza del genere quindi va a trovarlo il sabato monica gli aveva lasciato un po' di tempo per potersi organizzare andare via tranquillamente e silvia va a trovare daniel proprio appunto il sabato ma quando entra nell'appartamento non trova nessuno e solo vede la tv accesa prova a entrare nella camera da letto che era chiusa ma scopre che era chiusa a chiave silvia non cerca di aprire la porta della camera da letto ma si dirige quindi in cucina dove sui fornelli vede un pentolone sapeva che daniel fosse un ottimo cuoco quindi apre questa pentola e all'interno di questa pentola c'è la testa di monica mezza sbrucciacchiata e ad occhi chiusi ed è qui che il comportamento di silvia diventa davvero davvero molto strano invece che tipo scappare urlando dall'appartamento chiedendo aiuto e chiamando la polizia lei va verso il bagno ed è lì che trova una scena davvero inquietante e raccapricciante infatti una volta aperta la porta del bagno trova sangue ovunque ma non solo sangue nella vasca da bagno c'era la gabbia toracica di monica ma intendo solo le ossa cioè ripulita completamente da tutta la carne finalmente la ragazza esce dall'appartamento ma non di nuovo per andare a chiamare la polizia per andare a chiamare daniel da una cabina telefonica da lì gli dice che ha visto quello che lui ha fatto ha visto quell'orrore e lui si scusa con lei le dà appuntamento a tompkins square park dove di nuovo si scusa ma non per ciò che ha fatto non è che lui fosse pentito di aver ucciso monica si scusa con silvia perché gli dispiaceva sinceramente che lei avesse dovuto vedere quella scena orribile secondo ciò che aveva raccontato daniel il 19 di agosto lui si trovava nell'appartamento che avrebbe dovuto sgomberare insieme a un suo amico ad un certo punto era arrivata monica che era arrabbiatissima lo voleva fuori immediatamente dal suo appartamento e l'aveva aggredito verbalmente aveva anche aggredito verbalmente il suo amico e questo aveva fatto talmente tanto arrabbiare daniel da prendere il cavo del telefono o comunque un cavo elettrico e metterlo intorno al collo della ragazza che aveva cercato di graffiare le braccia di daniel ma questo non era bastato perché lui mollasse la presa una volta che purtroppo monica era già morta lui le aveva calpestato con tutta la forza che aveva per dieci volte la testa e inoltre l'aveva colpita con un coltello ben 30 volte una volta terminata la rabbia del momento aveva preso il corpo della ragazza e l'aveva trascinato in bagno nella vasca da bagno dove le aveva tagliato le gambe le braccia la testa e aveva ripulito la gabbia toracica dopodiché era andato in cucina aveva cucinato e mangiato il cervello di monica e pare secondo il racconto che daniel aveva fatto a silvia che anche il suo amico l'avesse assaggiato comunque voglio dire che ci fosse stata o meno un'altra persona cosa che tra l'altro non è mai stata appurata la situazione non cambia daniel aveva massacrato la povera monica per romperle le ossa aveva utilizzato un palo di metallo mentre invece per intagliare la carne un coltello da 13 pollici aveva tagliato monica in tantissimi piccoli pezzettini la maggior parte dei quali li aveva scaricati nel water mentre invece gli altri li aveva portati in un deposito per i bagagli all'autorità portuale silvia ora dunque sapeva tutto ma lo stesso non è andata dalla polizia pensava che daniel in seguito a psicologi farmaci liti costanti con il padre dalla vita avesse già subito abbastanza ma se dal canto suo silvia se stava ben zitta e cercava di coprire il suo amico daniel andava a dire ad essere a manca ciò che aveva fatto la sua coinquilina e tutti sapevano anche che lui dopo la morte della ragazza aveva servito zuppa a quasi tutti coloro che abitavano ancora a tomkins square park zuppa che molto probabilmente conteneva delle parti del corpo di monica la voce si era diffusa però talmente tanto ad un certo punto che la polizia viene chiamata e interroga daniel daniel subito dice tutta la verità probabilmente per la sua coscienza si sentiva di fare così e conferma di aver tagliato in piccoli pezzettini monica di averla gettata nel water la polizia prova ad andare a controllare nell'appartamento ma non trova nulla perché daniel aveva punito alla perfezione l'arresto avviene il 18 di settembre del 1989 quasi un mese dopo la morte di monica questo vuol dire che se daniel non avesse detto a tutti ciò che aveva fatto lui non sarebbe mai stato preso anche perché silvia quasi sicuramente non l'avrebbe mai tradito daniel dunque non solo dice che ha fatto il corpo di monica piccoli pezzettini ma menziona dettaglio per dettaglio tutto ciò che l'aveva fatto compreso il fatto che ci fosse anche un suo amico insieme a lui durante tutto il procedimento e la polizia però non ha creduto nemmeno un attimo che ci fosse qualcun altro ma pensava più che altro che si trattasse di un suo amico immaginario ovviamente anche silvia viene interrogata e ripete esattamente tutto quello che le aveva raccontato daniel che corrispondeva a quello che daniel aveva fatto effettivamente ma silvia nonostante tutto non era dispiaciuta di aver tenuto la bocca chiusa cioè non si sentiva in colpa certo le dispiaceva per monica e per tutta la sua famiglia ma era convinta di aver fatto la cosa giusta per proteggere il suo amico la polizia non riesce a trovare la benché minima traccia del corpo di monica all'interno dell'appartamento e ciò non mi sorprende affatto siamo nel 1989 ma guidati da daniel riescono a trovare le parti del corpo mancanti quelle che lui non aveva gettato nel del water cioè il cranio e qualche altro pezzo di corpo nel deposito in cui lui appunto li aveva lasciati e aveva lasciato lì quelle parti così ha affermato lui per spedirla alla famiglia molto raccapricciante raga molto raccapricciante a febbraio del 1991 è iniziato il processo durante il quale daniel si è sempre dichiarato non colpevole nonostante la sua piena confessione il caso era diventato famosissimo daniel era diventato famosissimo per aver ucciso e bollito la sua coinquilina e dopo sei settimane di processo e nove giorni di delibera daniel è stato dichiarato non colpevole per insanità mentale è stato infatti trasportato poi all'ospedale psichiatrico di kirby dove ad oggi è ancora detenuto in massima sicurezza e oggi ha 62 anni daniel è stato valutato non da me ma da degli esperti ci tengo sempre a precisarlo come un ragazzo estremamente problematico e con problemi psichiatrici molto gravi è stato anche valutato come un criminale atipico sicuramente perché ha commesso un delitto efferatissimo atroce e forse quello che ha commesso dopo il delitto è ancora peggio perché ha cucinato con lei che ha ucciso però poi allo stesso tempo al momento dell'arresto e della confessione si è dimostrato pentito se non pentito perlomeno dispiaciuto per lei e questo è davvero molto strano ragazzi cosa ne pensate voi di questo caso io l'ho trovato estremamente strano e particolare rispetto ai casi che di solito vengono trattati spero comunque che sia stato di vostro interesse come lo stato per me vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine e noi ci vediamo lunedì o giovedì prossimo non vi ricordo mai ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti